Il Pescara Calcio A5 potrebbe non presentarsi. Mercoledì 7 giugno alle 20.30 al Palasport di Bassano del Grappa per disputare la gara 2 della finale play-off scudetto del massimo campionato. L'annuncio è arrivato dal presidente della società Bianca Azzurra, Danilo Iannascoli, che attraverso una nota diramata dalla società ha comunicato la sospensione delle attività e della partecipazione della squadra da tutte le competizioni sportive. In qualità di presidente del Pescara Calcio A5, ha detto Iannascoli a seguito dei gravissimi fatti accaduti prima e dopo la gara 1 di finale play-off e connotati da aggressioni verbali e fisiche subite dai nostri dirigenti e giocatori e dall'ennesima inadeguata direzione arbitrale, comunico, ha detto ancora il massimo dirigente della formazione Bianca Azzurra, che a partire dalla data odierna mi sento obbligato per tutelare la mia società nella persona dei dirigenti, giocatori e tecnici che la compongono a sospendere sia gli allenamenti che la partecipazione a tutte le attività e le competizioni ufficiali della prima squadra. Come si ricorderà giovedì scorso, dopo la fine di gara 1, sul parquet del Palagiovanni Paolo II di Pescara si era scatenata una gigantesca rissa fra giocatori e dirigenti delle due squadre. La rissa aveva richiesto l'intervento in campo delle forze dell'ordine.